Andrea Bocelli si è esibito insieme al figlio Matteo in uno dei momenti più toccanti della notte degli Oscar, quello degli In Memoriam, in cui sono stati ricordati tutti i protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo scomparsi nel corso dell'ultimo anno. Il tenore e suo figlio hanno intonato un'emozionante versione di Conte Partirò, tra i volti mostrati alle spalle dei due cantanti, oltre a Tina Turner, Matthew Perry e Jane Birkin, anche una foto del dissidente russo Alexei Navalny, morto in una colonia penale in Siberia lo scorso 16 febbraio. Se volete vedere il video originale cliccate nel link in descrizione oppure sul link messo nel primo commento di questo video. E buona visione! Ciao!